La Svizzera deve ritirare la sua antica richiesta di adesione alla Comunità Economica Europea. Lo ha deciso il Parlamento che ha approvato in via definitiva una mozione dell'Udc, la destra populista. Già approvata in marzo dal Consiglio Nazionale, cioè la Camera Bassa del Parlamento elvetico, ora la mozione è passata con 27 voti a favore, 13 contrari e due estensioni al Consiglio degli Stati, la Camera Alta. La domanda d'adesione fu presentata 24 anni fa e non le fu mai dato seguito. Secondo il presentatore della mozione occorre fare chiarezza perché nell'Unione Europea si tenderebbe a considerare la Svizzera come uno Stato che richiede l'adesione e non uno Stato completamente sovrano, cosa negata dal Governo federale che aveva proposto di respingere la mozione ma ora dovrà piegarsi al volere del Parlamento.